Parte oggi la stagione balneare, tante le restrizioni nei lì di distanziamenti e di vieti e ora atteso dalla regione il regolamento per l'accesso alle spiagge libere. Al via oggi la stagione balneare, negli stabilimenti restano valide tutte le misure contenute nelle linee guida di governo e regioni, mentre per l'accesso e la permanenza sulle spiagge libere è attesa l'approvazione dell'apposito regolamento. Intanto per quanto riguarda i lì di dovrà essere rispettato un distanziamento di almeno 3 metri tra gli ombrelloni e 3 metri 40 tra le file. Fino al medesimo ombrellone sarà obbligatorio indossare le mascherine, così in caso di spostamenti e salvo durante il bagno. Lettini e sdraio andranno disinfettati ad ogni cambio di clientela e sotto ogni ombrellone potranno sostare massimo 4 persone, 5 se della stessa famiglia. A fine giornata da parte dei gestori prevista la sanificazione. Inibite le aree giochi per bambini e vietato ogni forma di assembramento ai bar o nelle aree relax degli stabilimenti. No pure agli sport di squadra sulla sabbia. Non è escluso che poi, nelle spiagge libere, appena dopo l'emanazione del regolamento da parte della regione molise, vengano individuate delle figure atte al controllo degli arenili.